Così l'Irena! Se vorrei dire, ha un seno a un bando disartibile, però dopo il pezzo, non ha più la pancia. E poi presento i ballerini, loro che hanno colgivato l'indesima mia follia e la sua follia. E mi ricordo dai migliori teatri italiani, Mirko! E poi, attualmente, parte dei 2D3, attualmente, direttore artistico dei due osse, e in previsione per il futuro, direttore artistico, nonché il gestore massimo dell'arte, in alte situazioni, che l'indesima morte non se l'inventa, ma la conosce giù sempre! E poi, da dietro le quinte, con lei che si è vestita, con le unghie delle sue rivali, sei pronta, la donna che un bel gordo in più, MENISMA!